Notizia bomba dell'ultima ora a Milanello. Nessuno se lo aspettava questa mattina. Preparati a rimanere a bocca aperta con l'annuncio. Questa notizia esplosiva promette di scuotere la giornata di tutti i tifosi rossoneri. Ma prima di rivelare tutti i dettagli, voglio che lasciate un like e vi iscriviate al canale. Così, vi assicurerete di ricevere tutte le principali notizie e aggiornamenti sul Milan in anteprima. Non perdete nessuna novità. Il Milan è nella fase finale delle trattative con il Tottenham Hotspur per Emerson Royal e spera di chiudere presto l'acquisto del brasiliano. Come riportato da Sky Sport Italia, un accordo tra il Milan e la squadra della Premier League non è lontano e Paolo Fonseca potrebbe avere due rinforzi, difensivi prima della partita contro il Torino, che apre la stagione di Serie A. Il Milan spera di chiudere l'accordo per Emerson per circa 15 milioni di euro, che è circa la metà di quanto inizialmente offerto dal Milan e il valore che il Tottenham stava aspettando. Lo stesso Emerson sta spingendo affinché il trasferimento avvenga, piche crede che il Milan sia il posto giusto per ottenere più tempo di gioco e anche per disputare la Champions League. Avendo appena assicurato l'acquisto di Strahinja Pavlovich come difensore centrale, Fonseca spera di avere un altro nuovo difensore su cui lavorare nella forma dell'ex giocatore del Barcellona. Si prevede che Emerson sfiderà Davide Calabria per il suo posto di terzino destro nella squadra, il che potrebbe portare l'italiano a elevare il suo livello rispetto alla scorsa stagione. C'è un chiaro desiderio da parte del club e dell'allenatore di avere una competizione sana e serrata in tante, posizioni della rosa quanto possibile. E voi, tifosi rossoneri, cosa ne pensate di questa situazione? Il Milan dovrebbe continuare a puntare su Emerson Royal per rafforzare la difesa o sarebbe meglio esplorare altre opzioni? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo insieme di questa decisione importante. Forza Milan!